partite la registrazione ok allora buongiorno oggi parleremo diciamo sempre di use effect e concludiamo il discorso su use effect quindi sugli effetti collaterali i side effect che è necessario conoscere per far funzionare bene tutta l'applicazione in collegamento con il server fondamentalmente noi gli effetti collaterali li usiamo per caricare i dati immagazzinare i dati sul server è vero che ci sono anche altri tipi di effetti collaterali ma questo è quello che facciamo un'altra volta abbiamo visto il look use effect che ci consente di introdurre questi effetti collaterali avevamo anche ragionato dove questi vengono eseguiti vi ricordate la use effect registra una callback che verrà eseguita al verificarsi in certe condizioni e abbiamo discusso variamente sulle varie condizioni che dipendono da come chiamiamo la use effect in particolare da secondo parametro e poi anche dal fatto che sulla callback ritorniamo a qualcosa se dobbiamo far pulizia alla termine questo è un caso un po' più raro perlomeno per i nostri esercizi mi raccomando una cosa che ho visto nel laboratorio che è emersa non tanto chiara infatti abbiamo poi anche modificato la slide per essere più chiari in questo punto quando ci sono delle dipendenze indicate quindi non siamo nel solo caso array vuoto che è diverso da non mettere nulla ma ci sono delle dipendenze la chiamata avviene quando il valore delle dipendenze cambia queste sono properties o state ma anche all'inizio quindi sempre anche all'inizio ok? quindi mi raccomando di ricordarsi anche questo quindi diciamo che con la stessa use effect riusciamo anche a fare il caricamento iniziale se mettiamo bene a posto i valori delle variabili dai quali dipende ok? quindi non abbiamo bisogno di introdurre una chiamata con array vuoto aggiuntiva ok? quindi l'altra volta avevamo cominciato a ragionare su come gestire al meglio la comunicazione con il server ma abbiamo appena accennato il discorso oggi lo approfondiamo per bene vi ricordate che abbiamo detto che ci sono due tipi di stato a livello logico perché a livello di implementazione per React tutto uno stato e tutto funziona nella stessa maniera però noi a livello logico quando programmiamo vogliamo distinguere dal puro stato di presentazione che non ci interessa mantenere sul lato del server quindi non è uno stato dell'applicazione quindi non è per esempio il fatto che abbiamo aperto chiuso un menu piuttosto che quello che stiamo scrivendo in un form di tipo controlled e così via sono tutti stati temporanei che utilizziamo perché ci servono perché il framework reactor richiede questo tipo di gestione dello stato per la presentazione però non ci interessa memorizzare e questo lo distinguiamo dallo stato invece applicativo cioè quello che effettivamente ci serve memorizzare sul server quindi fondamentalmente i dati dell'applicazione questo stato dell'applicazione è importante saperlo gestire bene perché è il cuore della nostra applicazione è il motivo per cui interagiamo con l'applicazione per lavorare su dei dati che dovranno essere poi resi permanenti in qualche maniera per renderli permanenti l'applicazione sul lato del client deve parlare con il server quindi deve fare le tipiche operazioni di lettura creazione aggiornamento cancellazione eccetera e quindi deve interagire con il server al momento opportuno ecco questo momento opportuno è proprio la chiave del problema e oggi andiamo a discutere bene di quando dovrebbe essere fatta questa operazione perché perché nelle applicazioni web abbiamo due due programmi che funzionano uno sul lato client uno sul lato server che devono interagire tra loro e per la norma natura distribuita è possibile che più client interagiscano con lo stesso server usando gli stessi dati quindi c'è la questione che dovremmo periodicamente andare a controllare se ci sono aggiornamenti dei dati tipicamente questo stato dell'applicazione è gestito a un livello globale accessibile dei vari componenti nelle nostre applicazioni finirà quasi sempre in app che è il componente di livello più elevato perché poi deve essere distribuito ai vari componenti quindi sapete avevamo parlato dello stato avevamo detto che si deve fare il lifting fino a che tutti i componenti lo possono vedere diciamo per poterlo utilizzare e fondamentalmente nelle nostre applicazioni vuol dire portarlo quasi sempre in app non approfondiamo come si dovrebbe fare in applicazioni ancora più complicate quindi più grandi eccetera forse lì sarebbe meglio addirittura portarlo in un sistema apposta di gestione dello stato che però come tante altre cose non abbiamo il tempo di vedere in questo corso ok quindi oggi ci concentriamo sui casi d'uso più frequente e andiamo a vedere un paio di esempi che tra l'altro sono già online sul git nel repository diciamo così privato del nostro corso e quindi il corso in italiano AL quindi andiamo a vedere come realizzare queste funzionalità vi ho già raccomandato l'altra volta di mantenere tutto in un modulo separato per quanto riguarda le comunicazioni con il server quindi evitare di mettere sostanzialmente le fetch nel codice principale della nostra applicazione dentro le funzioni del componente non perché sia vietato si può fare però e negli esempi lo faremo per non dover scrivere troppo codice però negli esempi sulle slide però se così facciamo poi abbiamo un disordine di di codice che non aiuta sicuramente poi a scrivere una buona applicazione quindi daremo dei metodi del tipo get informazione update questo delete questo eccetera che possono essere richiamati dal componente che fa parte della nostra applicazione ma che stanno in moduli separati dove possiamo facilmente cambiare eventualmente gli url che andiamo ad utilizzare il modo con cui andiamo a fare le chiamate eccetera in più eventualmente possiamo anche scriverci dei piccoli metodi finti noi tanto per fare delle prove se per caso sul server non ci fossero già implementate queste cose quindi fondamentalmente faremo un return di un oggetto localmente tanto per fare delle prove ok quindi questa è l'architettura concettuale eravamo arrivati a questo punto se non sbaglio c'è un lato client browser dove gira l'applicazione react che isola tutte le chiamate verso il server in questo modulo API dove si fanno le fecce le quali vanno a caricare via HTTP richiesta HTTP il cui body vogliamo mantenere in formato JSON informazioni del server quindi fondamentalmente parlano con l'applicazione express che gira sul server che risponderà a certi metodi HTTP che andranno eventualmente interagire con il database quando devono recuperare o salvare informazione ok quindi oggi andiamo a vedere come fare questa operazione al meglio l'informazione viene caricata dal DB nel nostro caso è molto semplice abbiamo un DB scritto su file quindi di fatto una libreria a cui facciamo delle chiamate nel caso più complicati dovremmo parlare con un database server quindi un ulteriore server da qualche parte ma il meccanismo è sempre lo stesso il modo di interazione standardizzato con delle query SQL va benissimo e dobbiamo solo diciamo da un lato avere delle API ben fatte che ci consentano di fare delle operazioni e dall'altro lato client andarla a chiamare correttamente quando è necessario introduciamo due termini che sono reidratare e disidratare se li vogliamo tradurre in italiano che significano sostanzialmente prendere lo stato dell'applicazione e diciamo portarlo ad essere immagazzinato in maniera permanente come si fa appunto con la disidratazione si conserva per lungo tempo un qualche cibo un qualche cosa e quindi nel nostro caso si mettono le informazioni su database per poter essere recuperate successivamente la reidratazione farle tornare normali quindi utilizzabili dell'applicazione e riportarli nello stato dell'applicazione stessa quindi per prima cosa la nostra applicazione quando si avvia dovrebbe fare l'operazione di reidratazione cioè andare a prendere dal server le informazioni e caricarle per poter visualizzare le informazioni stesse noi apriamo pensate all'applicazione che useremo oggi apriamo la tabellina con i nostri voti e la prima cosa che deve fare l'applicazione andare sul server e chiedere quali sono i voti e poi ce li visualizza quindi capita viene eseguito non appena l'applicazione react si attiva e il miglior posto dove andare a fare questa operazione è ovviamente un effetto collaterale quindi una funzione che andremo a passare come callback a use effect dicendo di eseguirla al momento del mount del componente che tipicamente è quello che conterà lo stato quindi il componente app il componente principale inoltre questa operazione dovrebbe anche essere eseguita nel momento in cui vogliamo fare un refresh dello stato perché non possiamo semplicemente mantenere tutta l'informazione all'interno dell'applicazione e a un certo punto decidere di salvarla e basta perché è un sistema distribuito c'è un server al quale possono accedere più client e quindi se qualcun altro ha fatto delle modifiche la segreteria vi ha aggiunto un esame e voi lo volete vedere dovete andare a richiedere l'informazione al server perché l'informazione sta sul server finché non la chiedete non arriverà la vostra applicazione quindi periodicamente vogliamo fare il refresh dello stato andando a caricare ciò che c'è sul server l'operazione opposta deidratazione è estrarre lo stato dall'applicazione React tra l'altro cosa che può capitare spesso durante l'esecuzione dell'applicazione e dovrebbe capitare tutte le volte che qualcosa all'interno dell'applicazione è modificata nel senso dello stato dell'applicazione cioè cancelliamo una cosa aggiorniamo una cosa aggiungiamo una cosa e così via questa operazione dovrebbe essere inviata al server per essere eseguita sul server e quindi resa permanente sul server altrimenti abbiamo l'applicazione così come l'abbiamo vista solo finora cioè lavora nella memoria ma quando la ricaricate perde tutte le informazioni perché non le ha memorizzate in maniera permanente da nessuna parte ok quindi adesso andiamo a vedere come implementare al meglio queste operazioni e quali sono i problemi e come possiamo risolverli nel fare queste operazioni di aggiornamento e caricamento e aggiornamento del server bene cominciamo dalla più semplice la più semplice è nel momento in cui montiamo il componente cioè l'applicazione l'applicazione parte fare operazioni di reidratazione cioè andare a caricare i dati qui non c'è niente di particolarmente complicato andiamo a effettuare un'operazione di fetch tipicamente una get una o più nell'applicazione più complicate sarà più get verso il server ci danno tutte le informazioni che ci interessano e poi quando queste arrivano facciamo il parsing json e le inseriamo nel nostro stato lo stato che sarà lo stato della nostra applicazione questa è la shopping list un esempio che abbiamo fatto così tanto per fare delle per mostrare un pezzettino di codice in cui teniamo un array di in questo caso di string mi sembra quindi sono semplicemente string tanto per provare quindi la nostra API items ci ritorna delle stringhe caricate dal database nel momento in cui abbiamo la risposta facciamo set list quindi andiamo a modificare lo stato della nostra applicazione e quando eseguiamo questa callback vedete le parentesi e quadre aperte e chiuse solamente all'istante di mount quindi questo è il caricamento iniziale ok di per sé sarebbe finito qui vogliamo però fare le cose per bene quindi spendiamo una lezione intera anche per farvi vedere come fare molte cose un po' meglio della versione minima base che diciamo abbiamo di fatto anche se un po' implicitamente imparato finora per esempio caricare le informazioni via rete può richiedere del tempo perché c'è il tempo di trasmissione e poi magari il server ha bisogno di un certo tempo di elaborazione e quindi potrebbe darsi che la nostra applicazione parta si visualizzi tutto il contenuto e poi non abbia i dati da visualizzare cioè ha fatto React ha fatto il render e lo stato ancora nello stato iniziale lo stato applicativo cioè array vuoto e quindi non ha niente da far vedere questo non è particolarmente bello dal punto di vista dell'utente perché caricate l'applicazione e vi sembra che l'applicazione non stia funzionando non vedete nulla dei dati vedete magari una tabella ma una tabella vuota o una lista vuota e così via bene sarebbe interessante anche come dire piacevole dal punto di vista dell'esperienza utente avere una qualche indicazione di cosa sta succedendo per esempio che stiamo caricando i dati e stiamo attendendo che questi arrivino come facciamo ecco usiamo uno stato ausiliario questi stati appunto di presentazione che non hanno dal punto di vista del codice nessuna differenza con gli altri stati sia ben chiaro come dicevo prima per React sono stati come gli altri però ecco questo è il tipico stato di presentazione per gestire il caso delle risposte lente cioè vogliamo avere uno stato che è true nel momento in cui stiamo attendendo la risposta e diventa false nel momento in cui abbiamo finito di attendere cosa ne facciamo? lo usiamo in fase di rendering per visualizzare un'informazione che può essere utile all'utente qui è una cosa estremamente banale messo l'orologino potrebbe essere una scritta qualsiasi cosa attendere prego è una classica scritta che si metteva si mette da cosa è controllata la presenza o assenza di questa di questa scritta del fatto che lo stato loading sia vero o falso iniziamo col vero perché al mount dobbiamo caricare i dati nel momento in cui i dati sono arrivati oltre a impostare lo stato impostiamo il nostro loading false questo così come il setlist scatenerà un re-render del componente che farà sparire quindi l'orologino cioè renderizzerà questa parte interna lo span e invece si renderizzerà la lista la nord red list con le informazioni i vari item presi dalla lista che nel nostro caso sono semplici string quindi questo è l'approccio per realizzare un semplice meccanismo di caricamento all'inizio ma con la visualizzazione del fatto che stiamo attendendo le informazioni dal server ovviamente più l'applicazione è complessa più questa cosa diventa importante perché tipicamente ci vuole più tempo a caricare tutto ok mi raccomando se avete dubbi o domande chiedete quindi questa è la cosa più semplice al mount non è che c'è tanto da ragionare dobbiamo attendere di caricare i dati invece la cosa più difficile da gestire e che dobbiamo capire bene è come fare l'operazione di reidratazione quindi caricamento sempre dal server durante il funzionamento dell'applicazione per rinfrescare lo stato dell'applicazione cioè portarlo ad essere coerente con quello sul server se noi sapessimo che qualcosa è cambiato sul server possiamo usare la use effect esattamente come prima e trovare un modo per farla scatenare per esempio possiamo aggiungere una dipendenza da una variabile di stato ausiliaria che impostiamo nel momento in cui sappiamo che qualcosa è cambiato sul server il problema è che in generale non sappiamo che qualcosa è cambiato sul server perché abbiamo questi due problemi tipici il caso di n client che interagiscono con lo stesso server che è il caso appunto più comune e poi dunque dobbiamo anche fare attenzione a non creare dei problemi nella nostra applicazione creando dei loop infiniti forse qualcuno di voi è già capitato in laboratorio nel momento in cui usava use effect non ha messo le dipendenze oppure ha sbagliato scrivere le dipendenze è andato in loop infinito per fortuna React dopo un po' se ne accorge nel senso che dopo un tot di cicli sulla use effect si ferma e vi stampa qualcosa nella console e smette di aggiornare l'applicazione però diciamo il primo è un caso sul quale non possiamo farci nulla dobbiamo solo capire qual è il problema e eventualmente se abbiamo una qualche soluzione a questo problema il secondo invece è un errore di programmazione e ovviamente questo da evitare il più possibile perché non fa funzionare la nostra applicazione vediamo il primo problema il primo problema è che ci sono tanti client che possono interagire con il nostro server è un'applicazione web non è un'applicazione che gira localmente un'applicazione che gira localmente è un'applicazione appunto che funziona sul vostro computer e col quale interagisce solo l'utente che sta sul computer cioè quello che sta alla tastiera davanti al monitor e così via in un'applicazione web non è così ci sono due parti il client e il server e il server accetta connessioni da tutti quelli che possono lavorare sull'applicazione quindi può anche darsi che addirittura voi stessi abbiate più tab del browser aperti più browser aperti browser su dispositivi diversi aperti che interagiscono con lo stesso server dico voi ma potrebbe essere chiunque altro come vi siete il database della segreteria con i vostri voti e voi vabbè lo accedete solo in consultazione non potete modificarlo ma ci sono altri che possono andare a modificare le informazioni e non solo uno ci sono tante persone che lavorano nella segreteria se usano un meccanismo come questo in effetti lo usano perché alla fine è il sistema moderno di scrivere applicazioni distribuite in tanti possono andare a accedere all'informazione sul server qual è il problema che si viene a verificare nel momento in cui in tanti possono lavorare sullo stesso server come fa un'applicazione che gira su un client a sapere che qualcun altro ha cambiato qualcosa su server questo è il nocciolo della questione il problema perché interagisce con server non è che interagisce con le altre applicazioni tutte le applicazioni interagiscono col server e quindi come facciamo a dare una risposta a questo problema diciamo che abbiamo due possibilità la soluzione diciamo che adotteremo in questo corso che è sostanzialmente quella meglio di niente e la soluzione che effettivamente funzionerebbe bene pulita eccetera che però purtroppo è al di fuori dello scopo di questo corso perché è complicata ci richiederebbe fondamentalmente un'altra settimana o due solo per discutere di questo aspetto che non ci sembra il caso di introdurre in un corso di applicazioni web di base che però se farete i corsi successivi probabilmente potrete andare a vedere quindi guardiamo la soluzione diciamo meglio di niente la soluzione meglio di niente è diciamo che la nostra applicazione va spesso a chiedere al server il più frequentemente possibile che non vuol dire tutti i momenti perché alla fine se no passa il tempo a comunicare col server e a tirar fuori informazioni che nella maggior parte dei casi non è cambiata però ci sono dei momenti in cui ha senso andare a ricaricare l'informazione sul server per esempio quando carico una nuova visualizzazione ha senso andare a caricare l'informazione al server quindi non prendere quella che eventualmente sia già perché così se ci sono delle variazioni si può mostrare una visualizzazione aggiornata un po' come succedeva sulle vecchie applicazioni web dove tutte le volte che caricavo una nuova pagina c'era una nuova richiesta verso il server oppure dopo che si fanno delle operazioni perché tanto dobbiamo contattare il server il server lo contattiamo per dire aggiungi modifica cancella e così via dell'informazione e allora già che ci siamo carichiamo anche una vista aggiornata della nostra informazione oppure se proprio vogliamo fare diciamo appunto i più fini periodicamente che so decidiamo ogni 5 secondi 10 secondi ogni minuto ogni ora non lo so dipende dalla vostra applicazione andiamo comunque a richiedere l'informazione sul server a vedere se è stata aggiornata come fanno certi siti web diciamo che non usano tecnologie particolarmente recenti periodicamente ricaricano la pagina per vedere se qualcosa è stato aggiornato notate bene questa non è una soluzione ma è solo una maniera di minimizzare il problema nel senso che prima o poi ci accorgeremo se qualcun altro ha cambiato l'informazione perché l'informazione viene ricaricata dal server la soluzione che funzionerebbe bene e così via bisogna sarebbe questa cioè sarebbe necessario che il server comunichi i cambiamenti non appena questi accadono però questo vorrebbe dire che i nostri client devono registrarsi presso il server devono avere un canale aperto in continuazione con il server e il server ovviamente un canale aperto in continuazione con il client ci sono delle tecnologie di questo tipo per esempio i cosiddetti web socket oppure i meccanismi publish subscribe che fondamentalmente funzionano come un sistema simile però come detto non riusciamo ad affrontarli nel corso per motivi di tempo sfortunatamente quindi dimentichiamo questa parte sulla destra e ci concentriamo sul diciamo trovare una soluzione meglio di nulla che è la parte a sinistra cioè periodicamente andiamo a ricaricare l'informazione ok andiamo poi a vedere come implementarlo nella pratica prima di passare oltre e quindi risolvere il problema degli n server andando periodicamente o spesso a ricaricare l'informazione nel server cerchiamo di chiarirci bene le idee su cosa non dobbiamo fare con la use effect cioè come non dobbiamo usarla perché rischiamo di creare dei problemi perché poi dovremmo usare la use effect per risolvere il problema degli n server e comunque dell'operazione di deidratazione e reidratazione e anche quella ha i suoi problemi anche quando c'è un unico client dunque uno dei principali problemi che possono accadere usando la use effect è che ci vada appunto in loop infinito e questo capita soprattutto quando lo facciamo in la usiamo in in unione con la use state perché perché se noi mettiamo delle dipendenze e andiamo a modificare il valore di queste dipendenze che tipicamente sono gli stati dentro le callback della use effect si rischia di innescare un loop infinito due casi significativi da tenere a mente uno non abbiamo scritto correttamente l'array delle dipendenze quindi c'è qualcosa che manca e vi ricordo quando non mettete le dipendenze la use effect gira ad ogni re render quindi fa girare la callback ad ogni re render oppure se abbiamo messo delle dipendenze che cambiano tutte le volte ovviamente l'effetto è lo stesso e quindi si crea il loop un altro caso importante perché ci può capitare spesso di voler fare di voler usare come dipendenza un oggetto un array e dobbiamo fare molta attenzione perché se usiamo come dipendenza dei valori immediati quindi un true false piuttosto che un valore numerico questo diciamo o è quello o è un altro e non ci sono problemi e cambia solo quando effettivamente cambia questo valore nel momento in cui usiamo oggetti o array il valore che viene verificato se è cambiato oppure no è il riferimento a questo oggetto array quindi non il suo valore cioè come contenuto come invece succede per i boolean o i numeri ma o le stringhe ma il il riferimento e quindi se il riferimento cambia anche se l'oggetto di per sé rappresenta la stessa informazione useEffect pensa che sia cambiato e ci scatena la chiamata su callback quindi diamo un'occhiata a questo esempio qui abbiamo un problema no va bene useEffect useState contiamo i cambiamenti sull'input quindi abbiamo un semplice form un input type text value value quindi un classico controllo controllo del form di tipo controlled nel senso che manteniamo l'informazione del valore del controllo in uno stato il value value uguale value on change and all change and all change set a set value quel valore che ha il form classico controllo cosa vogliamo fare qui noi vorremmo avere un contatore che ci dice tutte le volte che il valore del nostro della nostra casella di testa nel form è cambiato bene potremmo pensare di usare un approccio di questo tipo avere uno stato perché questa informazione è da mantenere quindi va in uno stato quindi ci facciamo uno stato un count set count lo inizializziamo diciamo un valore che abbia senso va bene qui meno uno perché diciamo il primo cambiamento lo vogliamo diciamo la prima volta verrà eseguita la useEffect e quindi ce lo porta a zero indipendentemente dal fatto che abbiamo fatto un cambio sul form ma successivamente vogliamo incrementarlo di uno ogni volta che qualcosa è cambiato se facciamo come scritto qui ovviamente c'è qualcosa che non quadra perché perché succederà che ogni volta che il React decide di di fare il render questa operazione verrà eseguita ok quindi fondamentalmente ci manca il collegamento col fatto che vogliamo che il contatore si modifichi solamente quando è stato modificato il il value quindi cosa c'è che non va qui c'è che il l'operazione di la prima operazione di cambiamento del count che è stato fatto con una callback ma come è stato fatto no scusate qui non è con una callback è semplicemente un gset count sì questo vabbè comunque se mi sa che qui sì è una callback però deve essere fatta è una funzione richiamare però secondo me mi sa che ci manca un pezzettino vabbè dovrebbe essere set count c freccia c più vabbè comunque se purtroppo non abbiamo l'esempio vabbè comunque nel momento in cui facessimo girare il codice così com'era no cosa succede succede che la prima volta viene fatto un set count set count ci fa cambiare lo stato quindi cambiamento dello stato uguale re-render per react re-render vuol dire far rigirare la use effect perché qui non ho messo virgola l'array delle dipendenze quindi questo rigira ci fa ricambiare lo stato e così via e va avanti all'infinito e quindi ci va appunto in loop e tra l'altro non è neanche coerente con la logica applicativa che desideravamo perché noi desideravamo che il il meccanismo fosse che il count si incrementa ogni volta che cambia il value quindi scrivo qualcosa nel value ogni volta che si scatena l'evento on change che si scatena ogni volta che cambio qualcosa quindi scrivo un carattere si modifica il valore di count ok se noi introduciamo la dipendenza corretta facciamo funzionare correttamente il nostro codice e non abbiamo più il loop infinito perché facciamo la modifica di count ok e poi una volta che si è fatta la modifica di count react fa il render del componente e use effect determina che il valore di value non è cambiato rispetto a prima e quindi non ci chiama più il set count e quindi abbiamo interrotto il loop infinito ok ok bene nel momento in cui però abbiamo degli oggetti e non dei valori immediati come prima questo era una stringa che vogliamo usare come dipendenze possiamo avere un problema perché perché come dicevo prima il fatto se è cambiata la dipendenza oppure no viene verificato dalla use effect di react nel momento e solo tramite il riferimento quindi non si va a vedere il valore dell'oggetto a confrontare tutti i campi dell'oggetto come per lo state stesso meccanismo perché perché sarebbe troppo pesante e quindi react ci impone questa limitazione e quindi il risultato è che non possiamo non dobbiamo mettere un oggetto come dipendenza della use effect perché perché nel momento in cui noi lo cambiamo noi giustamente settando uno stato vogliamo creare un nuovo oggetto per scatenare il render cambiamo lo stato e vogliamo scatenare il render quindi creiamo un nuovo oggetto il fatto che apriamo la graffa qui vuol dire che stiamo creando un nuovo oggetto la tonda è solo perché sennò la graffa viene interpretata come blocco di codice non come nuovo oggetto questo però fa sì che cambi il riferimento all'oggetto secret scritto così è un riferimento ad un oggetto è vero che noi nello stato possiamo tenere un array un oggetto quello che vogliamo però dobbiamo essere coscienti del fatto che cambia tutte le volte che andrà a cambiare il verrà eseguita l'asset dello stato quindi la callback che corrisponde a quello stato e questo di nuovo ci crea un problema è un problema un po' più difficile da risolvere rispetto a prima perché di per sé il concetto è corretto se il contenuto dell'oggetto è lo stesso io non voglio che la useEffect giri però in pratica come riusciamo ad aggirare il problema beh lo aggiriamo non mettendo come dipendenze oggetti o array perché poi il problema si verifica anche con gli array perché in entrambi i casi ci sono i reference ma mettendo alcuni campi quelli che ci interessano del nostro oggetto quindi se è cambiato il campo all'interno del nostro oggetto per esempio in questo caso una stringa allora facciamo in modo che la useEffect chiami la sua callback altrimenti no e questo risolve il nostro problema perché anche se l'oggetto è cambiato se la stringa è identica il confronto ci dà risultato positivo o meglio dare act risultato positivo e quindi farà in modo di non far girare la callback di useEffect ok quindi in parole povere il problema è che l'asset secret crea un nuovo oggetto e quindi ci andrebbe in loop come prima non come risolvere non usare oggetti come dipendenze usare piuttosto dei campi di oggetti che siano valori che non siano riferimenti quindi questo ci insegna anche che sarebbe bene non usare oggetti complicati come stati perché se poi abbiamo all'interno di un oggetto un altro oggetto un array eccetera il problema si ripropone solo a livello più interno se però abbiamo la necessità per qualche motivo di usare appunto oggetti eccetera dobbiamo trovare dei valori da mettere come dipendenze che siano valori immediati nel senso che siano boolean numeri o string fondamentalmente non riferimenti ok quindi abbiamo aggiustato il codice di prima e evitato che ci sia lo stesso problema di prima cioè che vada in loop infinito perché controlliamo il riferimento dell'oggetto e non il valore all'interno dell'oggetto che in realtà ci interessa lo stesso problema si verifica con gli array quindi se noi mettessimo esempio shopping list la lista della spesa la lista qui è un semplice array di string che è un esempio che andremo a provare tra un istante bene all'avvio carichiamo dal server le informazioni e poi facciamo giustamente un set e poi diremmo tutte le volte che cambiamo la lista perché per esempio ci vogliamo aggiungere qualcosa a livello della nostra applicazione qualcuno va a modificarmi questo list con un set list potrebbe essere un'idea dire vabbè e tu intanto poi vai anche a ricaricarlo dal server come facciamo mettiamo list come dipendenza della use effect se list cambia chiunque me l'abbia cambiata la nostra applicazione perché io ho fatto ad update qualcosa avrò fatto un aggiornamento sul server e poi potrebbe venirmi l'idea di scrivere questo codice e fare in modo che la callback vada a caricare l'informazione del server perché io ho detto ogni tanto voglio fare il refresh dal server vado a caricare l'informazione dal server va bene e allora quando lo faccio beh quando cambia list che idea c'è l'idea di per sé è giusta ha cambiato list da parte dell'applicazione perché l'utente ha fatto un'aggiunta una cancellazione una modifica valla a ricaricare dal server giusto il problema è quello di prima nel senso che un array e se io scrivo list list è un riferimento e quindi se io ho fatto una set list ho cambiato l'array e dentro qui farò un'altra set list che sarà un altro riferimento e mi va in loop e quindi è lo stesso problema di prima del loop infinito quindi come faccio a risolvere il problema evitare di avere oggetti o array direttamente come dipendenze bisogna che ci siano dei campi diciamo che sono dei valori immediati quindi boolean interi o string quindi giusto per darvi un'idea di come potremmo risolvere il problema qui abbiamo diverse soluzioni per esempio qui potremmo mettere l'array vuoto certo che cambia la logica nel senso che questo vuol dire che il caricamento viene fatto solo al mount all'inizio del componente e quindi potrei voler aggiungere un ulteriore stato uno stato di servizio che mi serve solamente a far funzionare la use effect ovviamente uno stato di servizio tipo boolean che io imposto a true o comunque gli faccio cambiare il valore nel momento in cui voglio riscatenare il caricamento dei dati del server senza mettere list mettendo come dipendenza uno stato addizionale di servizio oppure se ha senso notate bene se ha senso potrei mettere la proprietà lente potrei scrivere list.length è un array ha un punto length se è cambiato il punto length vai a ricaricare del server se il server mi dà la stessa lunghezza il punto length non cambierà e quindi funziona però questo ovviamente ha senso solamente se è cambiata la dimensione dell'array cioè se ho aggiunto una cosa se è cancellato una cosa se l'ho aggiornata e se l'ho aggiornata è un problema perché non cambia la dimensione quindi non vado a ricaricare per questo potrei voler utilizzare un stato addizionale di servizio che mi serve a decidere quando andare a caricare le informazioni al server ok stiamo mettendo tante cose insieme adesso vediamo poi un esempio perché con l'esempio spero che ci chiariamo le idee meglio e quindi sostanzialmente il problema più difficile da gestire è l'aggiornamento perché se se noi avessimo l'array e mettiamo list.length di per sé riusciamo a gestire cancellazione e inserimento perché? perché ci fanno cambiare la dimensione dell'array però se abbiamo un aggiornamento la dimensione dell'array non cambia e quindi dobbiamo trovare una soluzione alternativa parliamo quindi del problema dell'aggiornamento che è appunto più difficile poi quello che risolviamo per l'aggiornamento di per sé poi funziona sia per l'aggiunta che per la cancellazione perché appunto l'update è il caso più difficile quindi nel momento in cui noi vogliamo aggiungere qualcosa anzi scusate aggiornare qualcosa con questo esempio come qui in realtà c'è un'aggiunta va bene non so perché ha messo updates sì in realtà questo sarebbe aggiornamenti del server va bene ok cominciamo dall'aggiunta poi parliamo anche dell'aggiornamento dopo c'è l'esempio dell'aggiornamento va bene cominciamo dall'aggiunta quando io faccio un'aggiunta cosa faccio voglio dire al server di aggiungere quel dato prendiamo l'esempio di prima la lista della spesa ok devo anche comprare lo zucchero io ho un campo di testo ci scrivo zucchero premo clic batto non clic add item e chiamo il mio handler l'handler cosa fa va a dire al server API item fa una post col mio elemento e aggiungerà zucchero nella lista nella tabella che ha sul server ok e poi cosa ne faccio dello stato lo stato lo aggiorno anche io nell'applicazione chi lo aggiorna ecco questo è il problema che dobbiamo risolvere nel senso che abbiamo uno stato sull'applicazione e uno stato da aggiornare sul server noi possiamo noi possiamo decidere di usare questo approccio che è un approccio possibile si chiama optimistic state update cioè la nostra applicazione aggiorna localmente lo stato e in più dice al server di aggiornare lo stato no quindi la prima riga la set list items tre puntini items quindi fa crea un nuovo array con tutto quello che c'era dentro più il nuovo elemento ok già qui non è non è mostrato tutto bisognerebbe passare questo element quindi quando facciamo la chiamata della della sync insomma questo element è un po' semplificato il codice bisognerebbe prenderlo dal value eccetera beh no in realtà l'element si è semplificato nel senso che manca il pezzettino di codice della use state perché l'element sarebbe tenuto aggiornato dal dal come si dice dal form che è controlled no quindi dalla on change qui è stato un po' tagliato per farvi vedere la parte interessante no la parte interessante è che nel momento in cui decido di aggiungere l'applicazione aggiunge lei stessa allo stato l'informazione e in più va a dire il server di aggiungere l'informazione il punto è che ho due operazioni che stanno girando in parallelo no e se questa locale funzionerà perché ho sbagliato a scrivere il codice o funziona no e se quella che va a interagire col server non funziona perché il server non è disponibile perché il server mi dà risposta tipo non so c'è un problema in quello che mi hai mandato e così via quindi non mi fa l'aggiunta no cosa succede? succede che ho i due stati desincronizzati io voglio fare la deidratazione diciamo quindi portare lo stato dell'applicazione sul server l'ho modificato sull'applicazione e non l'ho modificato sul server e ho creato una desincronizzazione che vuol dire che non appena andrò a caricare di nuovo l'informazione dal server come ho detto che volevo fare per poter intercettare le modifiche che sono state fatte da altri e avrò che quello che ho aggiunto e pensavo di aver aggiunto perché io qui nell'applicazione l'ho fatto e l'ho fatto pure vedere all'utente che quando faccio la set list si scatena a rarendere e viene fuori nella lista questa cosa non c'è e mi sparisce quindi in questo senso si chiama optimistic perché perché spero che vada bene l'operazione sul server ma non è detto che vada bene quindi qual è l'alternativa l'alternativa sarebbe quella di non essere ottimisti fare l'operazione sul server e poi se la risposta è ok fare l'asset list quindi andare a cambiare lo stato dell'applicazione solo se la risposta del server è ok questo è l'altro approccio non essere ottimisti essere prudenti diciamo così quindi l'aggiornamento dello stato locale dell'applicazione è effettuato solamente dopo aver verificato che la richiesta ha avuto successo quindi non c'è niente che funzioni in parallelo e il problema però quale diventa qui siamo sicuri che lo stato è sincronizzato però il problema diventa che l'utente non ha un feedback se l'operazione di aggiunta ci mette 5 secondi io ho cliccato aggiungi e non lo vedo non vedo che questa cosa sta avendo luogo fino a che non è stata aggiunta e quindi mi ha dato risposta positiva al server e questo è molto seccante per l'utente pensate voi utilizzate un sito cliccate e non succede niente quant'è la vostra pazienza tipicamente è un secondo forse meno è di questo ordine di grandezza quindi se non avete una risposta dal server e non avete un feedback del tipo sto facendo per favore aspetta pensate che l'applicazione non funzioni quindi questo è lo svantaggio di questo secondo approccio prima vedete subito ma nessuno vi ha detto attenzione guarda che quello che hai visto non è detto che va da buon fine qui invece fai una cosa e non hai detto cioè non vedi che questa cosa sta venendo fatta fino a che non ha successo quindi entrambi gli approcci hanno vantaggi e svantaggi cerchiamo di fare una sintesi e vedere se riusciamo a trovare una soluzione quindi potremmo provare a trovare una soluzione in questo senso quindi quando facciamo un aggiornamento dell'informazione sul server che sia un'aggiunta sia una cancellazione sia una modifica cerchiamo di prendere il meglio di entrambi gli approcci quindi aggiorniamo lo stato dell'applicazione locale locale nel senso dentro l'applicazione stessa quindi gli state dell'applicazione c'è la lista in parallelo così che l'utente abbia un feedback ma mentre facciamo questa operazione e aspettiamo la risposta del server diciamo all'utente che questa operazione di aggiunta cancellazione e modifica è temporanea cioè diamogli un qualche feedback in qualche maniera per far capire che l'operazione che ha fatto è temporanea non è ancora stata salvata sul server dopo che abbiamo fatto questa operazione di aggiornamento dello stato dando il feedback che è temporaneo immediatamente andiamo a caricare una volta che l'operazione ha avuto successo lo stato dal server ok così cioè di per sé ci basterebbe che l'operazione di aggiornamento abbia avuto successo no se carichiamo anche lo stato del server risolviamo anche il problema numero uno cioè quello dei tanti che possono interagire con lo stesso server perché abbiamo un'ulteriore conferma che tutto è stato caricato correttamente sul server il server è stato aggiornato correttamente in più carichiamo le eventuali variazioni che sono avvenute a a causa di altri che hanno interagito con il nostro server ok quindi quindi il codice è questo che vedete qui sulla sinistra quindi abbiamo solo l'ora ok quindi abbiamo la lista ok list set list use state all'inizio vuota la use effect che cosa fa che se al prima volta vi ricordo anche se ci sono le dipendenze la prima volta va comunque a caricare i dati quindi va a caricare gli items dal server e ci fa la set list items ok va bene poi ci mette l'update false ma di questo adesso ne discutiamo e poi abbiamo un campo di testo in cui possiamo fare delle aggiunte e l'applicazione funziona in questa maniera questa aggiunta nel momento noi facciamo un click add item va nell'handler e vabbè ci reseta l'element ma l'element è solo appunto l'onchange che abbiamo scritto direttamente qui ci mantiene solo informazioni di cosa c'era scritto nel campo di text l'element va bene lo prendiamo e e lo aggiungiamo alla lista però ci scriviamo che è temporaneo qui c'è scritto con una stringa temp potremmo potremmo inventarci qualche meccanismo più bello colorare la scritta di un qualche colore diverso dal resto per far capire che è temporaneo oppure metterci l'orologino o comunque qualcosa oppure updating scritto qualsiasi cosa che vi piaccia che faccia capire all'utente che questa operazione che è stata fatta è in fase di esecuzione e poi e poi andiamo a far l'operazione a far l'operazione su server e se tutto va bene diciamo set update true con questa variabile di servizio quindi a questo punto questa update è un stato di servizio che usiamo sostanzialmente per scatenare la use effect che carica tutte le informazioni nel server quando ne abbiamo bisogno quindi parte true al primo giro viene messa false perché carichiamo i dati e quindi sta false nel momento in cui abbiamo fatto delle operazioni sul server e noi diciamo la mettiamo a true per dire attenzione devi andare a aggiornare le tue informazioni dal server la mettiamo true il risultato è che è true ok vado a caricare le informazioni dal server se ho caricato tutto quanto metto false metto false quindi cambierò di nuovo lo stato cambierò di nuovo l'update al giro dopo di render la use effect viene eseguita di nuovo perché prima era true adesso è false però questo è false non eseguo l'if l'update resta come prima e smette di essere eseguita la use effect ok questo esempio lo proviamo in pratica che è quello che vi ho caricato sul git e appunto avete già il codice c'è una domanda su slack settando update a false nella use effect non viene nuovamente triggerata la use effect all'uscita sì sì infatti però abbiamo messo un if e quindi questo if ci salva dal eseguire la seconda volta il caricamento dei dati dal server poi nel momento in cui è false e lo rimetto false non succede più nulla è giusto l'osservazione infatti mentre provavamo questo codice a un certo punto ci siamo dimenticati dell'if e se voi andate a vedere nel rispetto al browser nel tab network vi accorgete che farebbe il caricamento due volte se non ci fosse l'if ok sì diciamo che non è una tragedia non si non va in loop che è molto più grave perché poi l'applicazione smette di funzionare però è giusto fare così per evitare appunto di fare il secondo caricamento perché usiamo questa variabile true false che fondamentalmente ci serve a far funzionare la use effect ma è vero che ci fa fare un giro in più e quindi dobbiamo preoccuparci di non farlo fare ok quindi prima di terminare il discorso con gli hook prof invece io non capisco perché la set element in ad item non andrebbe fatta dopo la set list ecco questo non ve l'ho detto aspettavo che qualcuno facesse questa domanda ottimo perché l'operazione non è detto che cioè non viene fatta immediatamente io faccio girare l'aggiornamento cioè chiedo a react di aggiornare lo stato di set element ma finché non avviene rerendere l'element non viene cambiato ok quindi è vero sì se volessimo essere forse più ci piace concettualmente di più mettere set list prima di set element ok lo possiamo fare tranquillamente non c'è niente di male però occhio che quello che chiediamo di fare con la modifica degli stati è asincrono ok e quindi non si riflette immediatamente nel cambio dello stato non è un element se noi scrivessimo element uguale virgolette funziona immediatamente però non si può fare perché perché react vuole che lo stato sia modificato con la sua callback perché deve accorgersi che lo stato è modificato perché deve scatenare rerender così funziona il mondo react ok quindi ottima osservazione mi raccomando queste sono cose da da capire ma ve ne accorgetene cioè se l'aveste scritto al contrario non ve ne sareste accorti quando lo scrivete così e vi chiedete ma perché element non viene cambiato subito ecco questo questo è il motivo e giustamente ci ricorda che che l'aggiornamento è asincrono l'aggiornamento dello stato ok allora io vi ho messo sul kit quindi questa volta avete già le cose su git non che cioè alla fine le guardiamo comunque insieme però quindi nella cartella week 11 c'è l'esempio update che è quello delle slide in cui appunto trovate questo codice quindi se volete già provarlo faccioccarlo mentre parliamo potete anche farlo io l'ho già preparato e quindi dunque abbiamo il server no quindi abbiamo un un server che non fa niente di speciale nel senso che gestisce solo una get api items una post api items non ha neanche il database perché perché se lo tiene in memoria quindi vuol dire che quando spegniamo il server perde tutto ok quindi questo è il server e lo attiviamo ok cioè così non generiamo un comportamento poco deterministico nel senso se element venisse cambiato molto velocemente la set list non partirebbe nel frattempo cambiato? no molto non capisco cosa vuol dire molto velocemente nel senso che non cioè la set sì element element dice la variabile sì però react non dovrebbe farci questa operazione nel senso che se noi non abbiamo uno stato coerente nel momento in cui stiamo eseguendo le funzioni all'interno del nostro componente diciamo diventa un po' pasticcio adesso proviamolo l'abbiamo provato quindi dovrebbe funzionare però quindi noi possiamo possiamo anche fare cioè il suo dubbio è concettuale nel senso c'è la garanzia che l'elemente non venga aggiornato fino a che non ho finito di eseguire l'endler dovrebbe esserci diciamo vabbè poi mettiamo un console log per provare ok proviamo l'applicazione così com'è no quindi io quindi questo è il codice che avete sulla slide e che avete appunto sul git è solo appena appena diverso nel senso che ho visto stamattina che l'if l'hanno messo sulla chiamata e non racchiudendo tutto però è la stessa cosa insomma è una sync che viene definita e non usata quindi proviamola quindi io vado su react carico la prima volta anzi facciamo così usate ecco io direi che se vi abituate a usare il browser con il tab network sempre aperto è vero che è un po' scomodo perché vi riduce lo spazio dell'applicazione però vedete sempre cosa succede peraltro è la stessa cosa che facciamo all'esame nel senso che per capire come funziona un'applicazione la cosa migliore è vedere oltre a come si comporta anche cosa sta facendo col server quindi localhost 3000 vedete vabbè all'inizio c'è il caricamento dell'applicazione dal server react però c'è il get items no? cioè l'ipi items la get che ci restituisce un json no? normalissimo json che in realtà è un array è molto banale questa applicazione è proprio un esempietto quindi niente di particolare ok e tutto il resto è roba di contorno non ci interessa adesso aggiungiamo qualcosa cosa compriamo il burro ok avete visto che è comparso il temp e poi è sparito spero che l'abbiate visto quindi noi abbiamo fatto la post poi poi adesso lo rivediamo no? post in realtà è estremamente grezza nel senso che abbiamo andato adesso non so neanche se abbiamo andato abbiamo andato un text plane quindi è veramente grezza non c'è risposto nulla però c'è risposto 201 quindi un codice 200 quindi sappiamo che è andato a buon fine e quindi nel nostro response ok entriamo andiamo a modificare l'update e quindi scateniamo la API items ok che ci dà di nuovo la lista di prima in realtà aggiornata perché l'abbiamo aggiornata dunque a questo punto potremmo vedere questo temp per farlo io faccio una piccola modifica sul server faccio con g edit no non c'è g edit cosa c'è va bene quindi sulla post io faccio set timeout potrei anche farla dal viso studio code niente di particolare e dico guarda aspetta due secondi a mandarmi la risposta ok quindi save per non aver fatto errori rilancio il server che avrà quindi dimenticato il nostro burro butter perché se lo teneva in memoria non aveva il database quindi orange aggiungo qualcos'altro notate che adesso comparirà il temp dopo un po' quando avrà finito la post faremo il caricamento e quindi verrà rivisualizzata la lista e sparirà tempo perché sono i dati caricati dal server quindi vedete che c'è tempo post ritorno alla post faccio la get sulla get non ho messo alcun ritardo e quindi è tutto rapido e mi viene aggiornata la lista ok quello che il vostro collega diceva è ma dopo che faccio sette elementi sì diciamo react dovrebbe farvi molto grezzo il più non è il massimo sarebbe più bello fare così però vedrete che element vi apriamo una console log giusto ve lo faccio vedere giusto per per farvi vedere come potete sperimentare per conto vostro e vedere queste cose orange cosa prendiamo non so cornflakes vabbè fa niente add ok element cornflakes vedete che è rimasto cornflakes e non mi è venuto fuori la stringa vuota no dopo che ho fatto sette element se io avessi scritto element uguale cosa che non devo fare perché non devo modificare direttamente lo stato mi sarebbe venuto fuori effettivamente la stringa vuota quindi diciamo che le la callback della set dello user state quindi la set eccetera e tanto più le callback della user effect che sono eseguite dopo il render non vengono eseguite immediatamente ok o meglio vengono eseguite nel senso che è una chiamata funzione però react si schedula di cambiare lo stato e non lo cambia subito no forse gli stati vengono aggiornati la chiusura della user effect potrei ricordare male lo stati dovremmo guardare lo schema siamo la 46 in realtà in realtà qui non è non è precisato infatti a me questo schema non è che piace tantissimo comunque bisognerebbe andare a vedere bene sulla sulla documentazione la user effect sicuramente viene eseguita dopo il render questo è sicuro non ci piove perché è una differenza tra l'altro riguardo a come funzionano i componenti rispetto ai componenti di tipo classe che usano altri metodi per fare queste operazioni la user state anch'essa dovrebbe essere eseguita dopo dopo la fase di render adesso non so se la chiusura user effect quindi se prima o dopo probabilmente dopo però come dice lei se no non so se la user effect funzionerebbe correttamente vabbè comunque la questione è non viene eseguita immediatamente poi il resto diciamo è meno interessante dal nostro punto di vista perché noi comunque non ci basiamo su cioè non ci aspettiamo che venga modificata immediatamente lo stato ok quindi abbiamo visto tutto nell'esempio sì potrei ancora farvi vedere giusto quello che diceva il vostro collega prima se io non avessi messo questo if no ne salvo ricarico vedreste che anzi scusate vediamo sul network vedreste la prima volta no perché la prima volta viene eseguita una volta la callback della use effect indipendentemente da tutto il resto ma poi quando aggiungo qualcos'altro quindi che cosa posso albicocche ok c'è la post e mi vengono fuori due get due get perché perché c'è il secondo giro sulla use effect scatenato dal fatto che è cambiata la variabile di update nel codice no questa set update se se non avessi messo la if update no come adesso l'ho tolto ok diciamo che questo è un problema un po' meno critico nel senso che è chiaro che si sprecano risorse si fa due volte il caricamento della stessa informazione e non è non è il massimo però almeno non ci va in loop no se noi mettiamo la dipendenza ecco questo magari possiamo provare diciamo pure la if update ma se chiaramente non mettiamo la dipendenza ovviamente quello che succede no abbiamo tolto la dipendenza si set update eh no se non mettiamo la dipendenza ok quindi cosa aggiungiamo ok va bene perché c'è l'if ce l'ha fatta ha fatto funzionare lo stesso vabbè perché viene eseguita ad ogni render eh se però se ti ti mi pare di fare questa cosa volevo farvi vedere eh che questa applicazione ecco mi raccomando che questa cosa non succeda all'esame no adesso vabbè abbiamo modificato un po' l'applicazione l'abbiamo fatta mal funzionare apposta però voi aprite l'applicazione così e così vi sembra che l'applicazione stia funzionando no cos'ha che non va questa applicazione fa vedere quello che vogliamo no water beer ok cos'ha che non va niente sta funzionando poi io apro tab network ecco e e vedo che è lì che continua a fare richiesta al server e questo comportamento ovviamente non va bene no perché perché eh perché non smetto di fare richiesta al server è vero che sono innocui dal punto di vista dell'applicazione ma non volete un'applicazione che continui a disturbare il server diciamo eh in maniera continua senza che ci sia una ragione ok quindi questo comportamento ovviamente al server all'esame non va assolutamente bene è vero che di per sé funziona ricarico sempre tutto tutti i momenti cioè non è che c'è un problema eh concettualmente il problema è pratico nel senso non ha senso far funzionare un'applicazione in questa maniera no ok quindi adesso come facciamo a fermarlo sostanzialmente dobbiamo evitare che l'applicazione venga caricata quindi facciamo così e e quindi boh il browser smetterà di caricare ok finiamo il discorso perché poi alle 10 meno qualcosina quindi tra una decina di minuti lascio spazio 5 minuti al rappresentante di una lista dei rappresentanti degli studenti perché sapete che adesso ci sono le a breve ci sono le lezioni che vuole mandarvi un messaggio e mi raccomando queste cose so che alcuni potrebbero sembrare noiose ma i rappresentanti degli studenti sono il modo che avete per interagire col politecnico e fare in modo che qualcosa cambia anche solo a livello di numero di appelli e così via è vero che c'è una certa inerzia ma a forza di chiedere magari che cosa si chiede ok salve professore in caso di errore nella fetch come sarebbe opportuno comportarsi ok allora se c'è un errore nella fetch no? e devo evitare di cioè mi sparisce mi sparisce quello che ho inserito no? cioè se io avessi faccio la prova dovrei in qualche modo segnalarlo all'utente nel senso che se voglio gestire gli errori dovrei da un lato avere uno spazio dove posso mostrare degli errori se voglio dire che cosa è successo e d'altro canto bisognerebbe che diciamo ciò che ho fatto venisse venisse annullato ma questo questo avviene automaticamente nel senso che nel momento in cui vado a ricaricare l'informazione al server se c'è stato un problema nella post ok non cioè l'informazione sarà quella che ha il server ok quindi adesso l'ho salvato vado vado a modificare il server c'è questo e diciamo che ecco non faccio la list push ok adesso non è proprio un errore come dice la vostra collega il nostro collega se cioè se mi ritorna un 300 eccetera beh devo decidere cosa fare posso semplicemente dire errore posso prenderlo quindi farlo comparire come un alert da qualche parte e non fare più nulla oppure prenderlo come occasione di andare a caricare dal server sperando che il server mi risponda no perché vabbè se mi ha risposto prima forse mi risponde anche dopo devo un po' decidere sulla base dell'applicazione quello che ha senso fare per per l'utente ok quindi io adesso ho evitato di aggiungere sul server e quindi adesso vado a prendere la mia applicazione ah no devo farla partire start ok me l'apre già devo attendere un istante e poi e poi semplicemente c'è un ritardo e dopo un po' sparirà ok non è bello no sarebbe bello che ok allora allora non lo so decido di di avere un comportamento diverso e e posso che so come faremo nella seconda parte della mattina andiamo su react scores lo aggiungiamo l'esame colorato e poi e poi ci il colorato è un po' come il tempo ci dice attenzione provvisorio e poi sparisce e quando sparisce sarebbe bene però scrivere perché è sparito attenzione c'è stato un problema nell'operazione per favore riprova no qualsiasi cosa dove la mettete lo mettete lo potete mettere else no set error messaggio quello che volete ok bisogna un attimo gestire un po' tutto un pochino meglio nel senso che vabbè se volete recuperare il messaggio d'errore capire se la fetch ha avuto un problema di rete oppure se è un problema che è arrivato dal server eccetera bisogna un attimo gestirlo col try catch insomma ristrutturare un pochino il codice oppure mettere then catch però dovete capire cosa ha senso fare per il vostro utente ok tipo tipo che so voi aprite google doc scrivete e lui sopra vi scrive sto salvando e poi e poi se non va cioè se va vi scrive salvato e se non va cosa scrive ha senso dire qualcosa all'utente paziente ancora i dati dopo un tot i dati non sono ancora stati salvati dovete deciderlo voi non fa parte della logica della vostra applicazione ok grazie comunque per la domanda perché è appunto interessante per sapere che cosa fare quando ci sono i problemi che sono un altro aspetto da gestire questa settimana li lasciamo un attimo da parte la prossima settimana magari proviamo ad approfondirlo in un esempio ok ancora qualche parola sugli ux e poi facciamo la pausa come funzionano gli ux noi abbiamo visto i diciamo due ux più importanti in realtà abbiamo visto anche lo use context ma su context diciamo un po' meno interessante come fanno a funzionare nel senso come fa la use state o anche la use effect no che è la stessa funzione cioè si chiama sempre use state e non gli passate un parametro specifico a dire questo è il mio primo stato questo è il secondo stato questo è il terzo stato passate un'inizializzazione basta come fa a ritornarci differenti variabili di stato e callback che settano quegli stati come fanno a questi valori ad essere persistenti a rimanere persistenti tra chiamate di funzione cioè la funzione del componente cioè react mi chiama example una volta poi un'altra volta poi un'altra volta ogni volta che c'è render poi fa la use state a sapere che la hidden cioè che quando la chiamo mi deve restituire la hidden e poi quando la chiamo di nuovo l'account e così via no interessante saperlo no soprattutto per evitare di creare problemi perché c'è un paio di regolette da seguire dunque sotto il cappello nel senso al suo interno react funziona in questa maniera ad ogni hook viene associato uno slot in un array che è associato ad ogni componente quindi il componente example ha un array associato all'interno di react in cui in ogni slot a partire dallo zero in poi diciamo react si scrive il fatto che la prima volta che chiamate un hook quell'hook è lo hook use state c'era quella variabile di stato associata a quella callback la seconda volta che l'avete chiamato c'è quella variabile di stato quella callback e così via in questo modo riesce a mantenere al di fuori della funzione gestito interamente da react l'informazione sul valore dello stato e quale valore vi deve ritornare a fronte di chiamate multiple alla stessa funzione la use state cioè in parole povere la prima volta che chiamate la use state se se è la prima volta un nuovo slot una nuova casella in questo array viene allocata se invece è già allocata prendete il valore che c'è lì dentro in quella casella che si è scritto il valore dello stato qual è la callback eccetera eccetera ok quindi la prima volta viene creato la seconda volta e le altre viene riusato no siccome funziona in questa maniera ordinata cioè io entro nella funzione la prima volta che chiamo un hook vado a prendere il primo slot di questo array la seconda volta il secondo slot e così via ne consegue corollario che le chiamate agli hook devono essere fatte sempre 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 nello stesso ordine ok quindi react ok deve sapere quali funzioni possono avere degli hook perché e sono i componenti questo va bene però gli hook devono essere chiamati sempre sempre nello stesso ordine poi direte vabbè che difficoltà c'è lo scrivo no new state new state new state è chiaro che sono chiamati nello stesso ordine allora quando è che possono possono iniziare i problemi non le sette le sette le posso chiamare come mi pare perché impostano uno stato e l'inizializzazione cioè il valore di ritorno di new state che funziona correttamente solo se le new state sono chiamate nello stesso ordine quindi quando è che si possono verificare i problemi i problemi si possono verificare nel caso vi venisse la malsana idea mettetemi di dire così di creare degli hook dentro dei costrutti condizionali quindi dentro dei loop del gif o delle funzioni anidate assolutamente da non fare perché ogni volta che eseguite il codice potreste rischiare di cambiare l'ordine in cui fate le chiamate giù e allora questi non funzionano più ok quindi regole semplici chiare ma da seguire e finora l'abbiamo diciamo lasciato un po' implicito perché non volevamo mettere troppe cose insieme sin da subito però mi raccomando se usate gli hooks bisogna seguire queste regole sempre chiamare gli hooks all'inizio della vostra funzione no diciamo all'inizio o comunque dopo la definizione qualcosa di costante insomma non dentro del altro codice quindi non dentro degli if non dentro dei loop non dentro altre funzioni ok quindi mai e poi gli hooks si possono chiamare solamente da dentro delle funzioni react cioè da dentro dei componenti no quindi non è che se il vostro componente usa un'altra funzione che voi avete scritto lì da qualche parte che però non è un componente e lì dentro ci chiamate look questo questo funziona bene ok noi finora non l'abbiamo mai fatto noi tendiamo a scrivere le funzioni in questa maniera no cioè siamo dentro il componente scriviamo tutto dentro il componente no constat item uguale vabbè adesso qui ce n'è una sola però potrebbe esserci cost che so cost change value uguale no e poi l'asset element eccetera se le scriviamo così va bene potremmo anche pensare di portarle fuori di per sé nessuno ce lo vieta è codice javascript no se le mettiamo a livello superiore non c'è nessuno che ce lo vieta occhio che se lo facessimo di dentro non dobbiamo chiamare hooks perché perché se no poi react fa pasticcio con come devono essere allocati gli hook cioè la chiamata al hook ha il suo valore ok l'unico posto dove si possono creare cioè chiamare gli hooks al di fuori delle funzioni react che definiscono i componenti sono i custom hooks però non vedremo chi è curioso si va a vedere noi diciamo ci accontentiamo degli hook che abbiamo imparato che sono fondamentalmente use state use effect e use context ci sono tanti altri hooks in realtà ci sono gli hook del router va bene quelli abbiamo visto dove li chiamiamo ma sono un po' meno critici in realtà quegli hook del router servono più che altro a recuperare dei valori come lo use context gli hook critici sono fondamentalmente lo use state e lo use effect professore ci sarebbe un metodo per rilasciare specificamente gli state no non penso proprio quindi rilasciare vuol dire nel senso cioè ci pensa ci pensa react ma lei per quale motivo dovrebbe rilasciare uno state nel senso che finché il componente è montato lo stato le serve e nel momento in cui il componente è smontato ci pensa react se la shopping list non è più dentro app io perché non la renderizzo più il componente viene smontato gli hook vengono diciamo eliminati ok infatti non mantengono più il valore iniziale il valore iniziale se lo riprendono dalla prima chiamata use state nel momento in cui il componente viene rimontato quindi non c'è un destroy state anche perché se lo faccio per mantenere il valore al prossimo giro ok grazie della domanda allora vediamo un attimo solo se c'è il nostro collega studente che mi aveva scritto che si chiama Marco Smorti quindi noi a questo punto diciamo che faremo una pausa ma questo Marco Smorti ok quindi io direi che se vuol parlare può parlare dovrebbe riuscire se no ci scrive o su Slack o da qualche parte io solo fermo la registrazione nel senso che non mi sembra che sia utile che questo venga registrato quindi facciamo quindi facciamo un po' un po'